Ben ritrovati su Notebook Italia per l'hands-on dell'Acer Chromebook C720 P-Touch Moonstone White. Questo modello, presentato al CES 2014 di Las Vegas, va a completare la gamma di Chromebook Acer C720 annunciata a settembre ad Amsterdam, aggiungendo una nuova colorazione Total White e l'input via tocco. Possiamo così spostare il cursore sulla barra delle indirizze di Chrome semplicemente toccando le Andres Notebook Italia. La tastiera è ergonomica con una tinta nera che contrasta con la parte bianca sottostante. Il layout è ad isola e presenta una fila di tasti funzione specifica per Chrome OS. Più in basso c'è il Touchpad che, come su molti notebook moderni, è dotato di pulsanti di selezione annidati sotto la superficie sensibile. La presenza del touchscreen rende molto immediata e intuitiva la navigazione tramite l'uso di Gestrus Multitouch. Facciamo diversi scrolling senza usare Touchpad o tastiera. Non riscontriamo difficoltà durante la navigazione. Stiamo provando infatti a leggere un articolo preso direttamente dal nostro sito. Il sistema operativo Chrome OS è ovviamente incentrato sul browser, ma comprende anche un menu delle applicazioni che raccoglie le principali app dedicate alla posta elettronica, alla produttività personale e altre se ne possono aggiungere dal Chrome Web Store. Sulla destra invece possiamo accedere ad un elenco di notifiche e impostazioni rapide, come per esempio quelle di connettività, e da qui passare alla schermata delle impostazioni di Chrome OS. Dalla voce dedicata allo schermo vediamo che il display ha una risoluzione di 1366 x 768 pixel e da 11,6 pollici di tipo multitouch a 10 punti di contatto. La restante dotazione tecnica prevede un modulo Wi-Fi N, una webcam HD integrata, un SSD da 32 giga che consente un avvio in soli 7 secondi e una rapida ripresa dalla sospensione. Ricordiamo che ci sono anche configurazioni del Chromebook C720 da 16 giga. Richiudiamo il display, come potete notare il design è semplice e gradevole. Sulla parte frontale in alto a sinistra c'è il logo di Chrome OS e più in basso il logo Acer. È un Chromebook davvero compatto, può essere portato ovunque, lo spessore è di soli 2 cm e pesa 1,4 kg. Sul lato destro abbiamo uno slot per le schede SD e una porta USB. Sul retro l'apertura poco invasiva della reazione dello chassis e accanto uno slot per la scheda SIM, indispensabile sulla configurazione dotata di connettività 3G. Dalla parte opposta abbiamo l'ingresso per l'alimentazione, una porta HDMI, una USB 3.0 e infine il connettore combo per cuffie e microfono. Sotto lo chassis c'è un processore Intel Celeron con 2 giga di memoria RAM. La CPU ha consumi ridottissimi e permette una durata della batteria che raggiunge le 7 ore e mezza. Acer Chromebook C720P in questa versione Moonstone White sarà venduto a 299€ in Europa ma purtroppo almeno in prima battuta non in Italia.